Il turno invece è un 9-5 Come è giusto, no? Mi sei sgrava! Non ti sputti un occhio perché non hai dubbio Ma c'è anche un climax così da giocare Tacco Più di solo tutti Tra Vado, pesco Va bene Uno 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 Due Tacco Due Una Due Sì L'eschiapenta Questo pesce è un 5 totali Ok, bene Giusti giusti Quello fa Più stock Più netto Dura, è dura Signore, è dura Questa sappiamo già abbiamo la sede Questa è un 5-5 Questa è un 6 E questa è un 5 Svei da lei Guarda, è rischioso Ed è un 6 Questo è un 6 Mi chiedono che c'è in mano se il T-Max Che cosa da scartare Chi lo sa Chi lo sa Magari sono bravo a dire 1, 2, 3 Mi rocco 1, 2, 3 Ok, è bello Almeno qui Allora, scusami Questa è una 7 Sono tutte più 2,000 E lei più 4,000 Ok Quella ci penso dopo A quella ci penso dopo Solo, sì Niente di eccessivo Eh, infatti Lo penso anche Questa qua non è senza effetto Senza effetto Effetto negativo E una mini Ok E questa qui posso quando tolto Poggevroni dice che non posso usare il video peccato Ah Su direi nei commenti Che io non posso farlo Su direi nei commenti Ho ben due possibilità che ti aiutano Allora Già finito voi? Eh sì Ma se l'hai giocata con le ore? Sì Allora Una schiatta e una la scuola Ok Vado? Mi sembra giusto Com'è? Sì Sono 10.95 Ma c'è giacca in te Ok Due? Ma questo è di più 10.95 Due Caccia in mano ancora? Tra Attenzione Paura Brivido Diabolo Diabolo Ma questa è una segna Questa è penetrata È penetrata Vediamo così Ma non mi cambia la vita Pago due Lei finché è nella middle position Guadagna più mille Ok Quindi al momento è 10.5 È un 10.5 Quindi quello e mezzo lo scuola La grigia Continuo Lei guadagna più 2.000 e 1 di solo Ok E quindi va a 6.000 e 7.000 Sì 7.000 8.000 Mi sono andato a schiantare Con un deficiente Vabbè Ah no C'è 500 su Sì Va bene 8.500 8.500